La provincia di Belluno è salva. Il recente provvedimento del governo l'ha recuperata, unica assieme a Sondrio, tra tutte le province italiane che non avevano i requisiti che il governo aveva individuato. Adesso dobbiamo passare avanti. Però passare avanti non significa dimenticare ciò che è stato fatto in passato. Fin dal 2001, quando ho avuto l'onore di entrare in Parlamento, ho presentato la prima proposta di legge per Belluno Autonoma. Proposta di legge che ho rinnovato nel 2006 e che ho rinnovato nel 2008. Sono tre gradini pronti, predisposti in Parlamento. Non solo. Nel 2005 il governo ha accolto un mio ordine del giorno, che era inserito nella normativa sulla devolution, con la quale riconosceva il diritto delle province di Belluno, Sondrio e Verbania, di avere l'autonomia. Riconoscimento che poi è decaduto per effetto del referendum con il quale i cittadini italiani hanno eliminato la normativa sulla devolution. Però anche quello è un segnale forte di accondiscendenza da parte del governo delle ragioni di specificità del territorio bellunese. Da quelle proposte di legge e da quell'ordine del giorno accolto noi dobbiamo partire per un ulteriore percorso, che ha già avuto però dei riconoscimenti economici importanti. Pensiamo al Fondo Letta, che ha distribuito nella provincia di Belluno ogni anno una quarantina di milioni di euro. Pensiamo al Fondo Branchere, che ne distribuisce 80 all'anno circa. Se pensiamo che il bilancio della provincia di Belluno è di 180 milioni di euro circa, capiamo perfettamente cosa vuol dire con due soli provvedimenti portarne altri 120 milioni. Ma a questo si aggiungono i milioni dei sovracanoni, che ho lottato affinché venissero variati nel 2003, con un provvedimento che è stato accolto e che ha portato molti milioni nella provincia di Belluno. Questo percorso va implementato. Noi dobbiamo riuscire pian piano, attraverso interventi singoli, a far riconoscere anche in termini economici la specificità e le esigenze del territorio bellunese. Una sorta di autonomia che si avvicina sempre più a quella tipica del Trentino Alto Adige, a quella tipica anche di altre regioni a statuto speciale, a quella tipica di un territorio che si deve confrontare ogni giorno con i vantaggi, le prerogative delle regioni a statuto speciale. Belluno è incuneata tra due regioni a statuto speciale. Certo, due regioni leggermente differenti. Il Friuli non ha tutto ciò che ha la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Però questi sono esempi ai quali noi dobbiamo puntare anche per il raggiungimento sul piano normativo ed economico di risultati congrui. Quando? Io credo che questa legislatura si consoliderà con la salvaguardia di Belluno e il riconoscimento di un suo pari diritto a confrontarsi con province molto più ampie. Belluno ha 213 mila circa abitanti, il grande intervento che consoliderà Treviso, Padova e Venezia avrà circa 2 milioni di abitanti, altrettanti ne avrà l'intervento che consoliderà Vicenza, Verona e Rovigo. Pensiamo a cosa vuol dire per Belluno essere soggetto di pari diritti rispetto a queste altre due così importanti realtà sul piano dell'estensione e sul piano del numero degli abitanti. Da questo riconoscimento di pari valore del territorio bellunese rispetto ad altri molto più ampi noi dobbiamo partire per completare il riconoscimento della nostra autonomia e della nostra specificità attraverso risorse economiche che siano adeguate e naturalmente anche il diritto all'autogoverno perché dobbiamo essere in grado di disciplinarci e di scegliere direttamente quali sono le opzioni da considerare principali rispetto a quelle da considerare secondarie. La prossima legislatura sarà la cartina al tornasole di questo nostro percorso che affonda le radici nel 2001, che si consolida via via che sono passati gli anni ma che avrà possibilità di raggiungere effetti importanti nei prossimi 5.